Mauro Valente mi ha detto che i ragazzi del Sud in particolare, le band del Sud, non si affrettano a presentare i loro brani per il concorso e io gli dico affrettatevi perché altrimenti musicalmente parlando non è l'Italia che si racconta, quindi portate presto il vostro materiale ad Arezzo Wave, il più grande festival gratuito di musica in Europa, il più antico per domino e in bocca a Vipro. Ciao!